Voi, assin al 3 di dicembre, che è una giornata fredda e anche con aia, anzi, tecchi, a Cividalla, dicendo che è buona, no? Assin vignosi, in chiasa e quindolo, a chiatà Adeline, che ha una bellissima età di 89 anni finisce, ma gli ha noi lo dimostra e per noi ha una memoria storica. Allora, gli ecumò, hanno scontato le sue vicende dei soviti candidati. Ecco, Adeline, che mi dici quanto eri giovane, ce che facevi? Ce che lavoravano in tanti, prima di tutto, erano contadini, fituai, si lavorava di 20 anni, di contadini, era famiglia numerosa, perché erano in tanti, erano in 2 fratelli, dopo erano i nonni e i genitori, erano una famiglia di 12 persone, però erano veramente, ho detto, non dismenterai mai, ho detto, i migliori tempi di vita sono stati proprio qui. per sé che era la famiglia numerosa, time frost, si leva la sera, si ha linciato, si sguiava, era una roba, un'allegria, ecco, era un'allegria, sei tu una famiglia numerosa così, e ho sei usato sempre tu una famiglia numerosa, che com'ho non puoi rassegnarmi a chi di sei sola. Ecco, chi di sei sola, com'ho mi pare, qua è una roba, una dispersione, che ho detto la verità, proprio, ho usato sempre così, sempre sei tanta gente in te famiglia. E le miserie di voi, le solitudini dei famigli, si, 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 si. Che succede per tutti? Anche volte, erano miseria, non c'è di Giaccarazzo, perché per dirgli come ho, io ho una pausia che conti, io ho una verità, e il pan, no, non lo vedevi mai, non è polenta, la polenta se, perché erano in contadini, e facevano la polenta, che erano, non mangiavano la polenta e il latte. Ho detto la verità, che ho mangiato proprio, tanto io l'ho, che qualcuno non bevano a cacchè, che dimmi se lì. Però, il pan, no, non era, perché non si bevano, il formento, avevano di portare al parro, perché, e avevano la fede, i paia, e non arrivavano, o che veniva al sotto, così o quella, insomma, erano andate, veramente, di miseria. Ma siccome che cadono, erano una famiglia, che tutti si insegnavano, qualunque bando, bastava, tirare fuori, qualche frango, per poter, lì andavano di mangiare. E le domeniche, no, c'è molto, c'è fase, viso, laviso a messe? A messe, sì, e dopo, si vengiva a casa, con che si era frosso, si gioiava, si faceva, e dopo, con che si era più grande, si vengono i lavori, si fa, di netta, di fare la polizia, di via per settemane, c'è una famiglia di contadena, l'era timo, di stare, scovare le cortiffe, insomma, si metteva a puerto, dopo si leva a messe, dopo si leva a gespo, dopo si leva a cattolica, che leva a conferenza, ogni domenica, e dopo si era con gli nostri amici, si leva a fare un sier, e dopo si vengono a casa, la sera, si vengono a casa, con la fiesta, e era così, quando si era più, dopo si era venuto alla guerra, dopo le cambiate, non si poteva più, la tanta torre, non si poteva, si stacciava per forza, per esempio, alla sera, nessuno leva a fuori, no? perché c'era il coprifuoco, ma stavi so' lassù di, no, io stavi lassù, io so' sposata lassù, in Zuccula, però se vengono da San Zorz, di Ruales, e dopo si è sposata, e là da stare, in Zuccula, sì, c'è là da Zuccula, sì, sì, a mattina, per esempio, a c'era gli avviso, quando avevi di là, per i ghiacci, per dire la verità, io, quando ero in Zuccula, scadino di me, tenne strafame, non è proprio, se non avevo in destra, che si aveva di là, o in quel prato, che era lontano di là, allora, vi stacciava, gli aveva tanta buona ora, per poter arrivare là, prima che avevano i salti, con i besti, perché avevano i lavazzini, che lavoravano, che volta, no? se no, insomma, si è, non è che come era, un orario proprio tanto, mattiniero? no, no, tanto, come che si dice, l'estate, perché che lì era cial, dopo, allora, che lì si scomigliva, sotto il pregno, e prima che avevano i cial, che si avevano i sapati, le draf, tutti, lo posto in campagna, no? Che lì si fava di mattina, a finora, e anche via con i besti, perché che i besti, con che veniva cial, dopo, erano i mosciassi, i tavans, là, che non stavano fermi, si fava ora, di tignili, e allora si leva, via buona ora, prima che veniva, il cial, così. E dopo, a misdia, facevi di mangiare un nenone, qualche luce? Sì, sì, era il mio mare, che faceva di mangiare, sì, faceva di mangiare il mio mare, io che mi visi, era il mio mare, dopo il mio mare, non aveva più, io, ma io avevo la passione, di fare di mangiare, fare della verità, ti faceva perché scugniva a fare, e quanto se mio da grande io, io avevo la passione di fare di mangiare, e io se mai poteva, mi dicevo, voglio, se no, se ero in lavoro, di questa goba, perché io ero anziana, non arrivava, no? ma per esempio, se ero in giro a fare lavoro, magari a riscaldare, buttare su, arba, faccio il lavoro, se lei mi diceva, no, è stato fare di gustare, che io voglio, diceva, e poi se non ci ho di gustare, è stato, ho fatto tanto mangiare, anche a casa, perché il mio mare, non aveva proprio passione, con così l'ho da via i occhi, che proprio io ho mangiato un grum, perché roba le c'è no, Una roba volevi domandare, voi altri stavessi lassù di brosadola, no? E allora, mi pare che mi diceva, che avevi da metà del raccolto a loro, c'è mutello? E avevano lassù, allora rinnaffette, ma se era perduta, non c'è l'acqua riopera, lassù e avevano, e l'affetto di pò, un tanto per giampo, e una volta che avevano, così si deve, per esempio, noi che erano in Europa, avevano un quintale e 80 di formento per giampo, per esempio, avevano 10 giampo, e avevano 18 quintali di formento, che è così, era verità, che noi condiziamo, dopo avevano la ciasa, e poi avevano la fede ciasa, non sai troppo, non sai troppo strano, 200 franze, sono preso un po' così, e dopo avevano anche il prato, anche quel, si paiava, dopo avevano, la uva a mieses, facevano il vin, il vignale, e avevano il vin a mieses, e la galetta, i cavalieri, a mieses, e avevano, e dopo non è finito tutta lì, che non gli ho raccontato, e avevano, di portare tanta danza, per esempio, avevano di portare 6 giallini, 6 giapons, dopo anche a Dindhi, se portavano, non sai troppo, non mi visi più, troppo capo di polano, che si portavano loro a danza, gratis, gratis, sì, erano gratis, sì, vuoi, se paiavi la fila, le chiese, e le chiamme, avevano di dare, tutte che roba che, esattamente, a mieses, il vin, e a mieses la galetta, i cavalieri, che fra l'altro, se avessero avuto, il po' di tenere i cavalieri, avevano una chiesa, di uno sguardo, perché non che era, era tutta rotta, un barcone, se mi aveva freddo, i cavalieri, avevano bisogno, di una certa temperatura, diciamo, no, se per fin, là si è dorme sul ciasco, qualcuno che era in piso, gli mette i cavalieri, su una ciamera, perché vado in davanti, perché se no, dopo, e le vengono a malamentare, e non si è dorme sul ciasco, per metterle le ciamere, perché non vado l'ambiente adatto, che è una verità sacrosante, che dicevo, sì, i crodi, i crodi, perché c'è che... Perché l'altro, ero io, che c'era i cavalieri, che mi piaceva tanto, di lavorare per i cavalieri, perché avevano i gost, che non c'è di... perché due ci vengono, ogni settimana, ogni dorme, ogni vodice, per esempio, e hanno di dormire tre volte, e dopo vanno a filare, ogni vodice, per esempio, se non c'è altro, più c'è altri anni, più svelsi vanno in davanti, noi vengono in freddo, vengono sempre gli ultimi, e io non c'è un po' come, dicevo, per se non vengono, se non c'è, però avevano i gost, e con insomma, di fanci, io non c'è anche io, e dopo vengono fuori, queste gallette, queste bolle, i blanchi, Dopo, sì, le gallette, prima, ci le avevano, avevano dormire, quattro volte, dopo avevano, dopo avevano di la filare, si facevano le cose, le baracche e tutto. Non sconti come ho anche, su un timo di guerra, avevano soppure, scoglievi su schiampà? Schiampà? No, non c'è mai schiampà, no femmini, no, ma come che dici, miei fratelli, che erano schiampati, del fronte, che erano tutti, erano, e sono schiampati, mi stavano sempre schiampati, perché comunque venivano i tedeschi, la prima roba che facevano, lei vengono a calare, per tutte le stazioni, e sapete se erano partigiani, per loro non sarei partigiani, non sarei partigiani, loro non sarei partigiani, erano stati a chiasi, perché non avevano di là, se che loro l'ha conquistato, un uomo che era riuscita, ma ne avevano via, e tutto questo, con loro, e se non stavano qui, loro, sempre, tutto il timo di guerra, e noi, per dire la verità, erano ogni dei, che sempre, venivano per i famigli, e anche la sera, siccome che noi stavano, sono di una, si dice, noia, crossata, che sono due strade, che vanno, una leva a Ipli, una leva a Firmand, due strade, che vengono a Manzano, che era un posto che portava là, che erano i partigiani, e passavano, che avevano la caserna, con le ascividate, passavano ogni sera, per lei di noi, tutta la, chi da caserna, se non si può dire, la compagnia, dei Todes, che è la vigno, di Germà, e le vengono a fare, i rastrellamenti, e passavano ogni sera, dopo loro, perché non sapevano, quando si stavano, c'era di noi, che erano qui, in bivio, due strade, e si pestavano, con quelle cose, che avevano, si avevano, in scurso, dei barcone, no? Brum, 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 per ora, mio padre, che faceva in scurso, e allora, erano loro, e domandavano, la strada, parlare, a Manzano, us domandavano, anche di mandare, I Todeschi, no, i che domandavano, di mandare, erano i Cossacks, i Cossacks, erano che domandavano, di mandare, avevano paura, di che? No, no, non erano, non erano malvagiosi, no, se erano ciocchi, un po', che si faceva, un po' di paura, perché qualcuno, le ciocchino, la sentimento, però loro, le vengono a domandare, domandavano us, domandavano latte, domandavano, e lei, sta scorresse, insomma, tesone, non lo so fare, nessun dispieto, no. Che pensi a delle linee, del mondo di voi? Dio, non so, e ne altre, roba, che l'altro mondo, ecco, sono quelle che dice, io, e dice la verità, se io, che dice, noi mai, patì, tanto, e pensato, tanto, e mai, non avremmo mai, creduto, che il mondo, il fosco, si brutta, ma, e dice, dice, che anche una volta, era così, no, non gli era frecola, non era proprio come che sono con me, la sua ventura, non era come chi, con me. Grazie.